Bella a tutti ragazzi, io sono Gabriela Jay Magari Fabi Jay, magari Lo sapete che Fabi Jay credo che ha 700.000 iscritti Io ancora zero perché questo è il primo video Allora, che volete fare? Io mi capo prima Gabriela, veramente Voi come vi chiamate? Sì, però c'è qualche problema Ho già riuscito a dire Che triste, che triste, che triste È tristissimo, vero? Ma credo che questo sarà il diavolo Magari 700.000 iscritti Magari Vabbè Che volete fare di oggi? Di bello? Sì, certo Potrei fare Vi potrei mandare anche qualche video mio Che sono una scema, certo Però che volete fare per me? Volete giocare? Un giorno farò così Prendi il mio telefono Prendi il mio telefono E con il mio Nintendo Ti farò i videogiochi e me li farò vedere Capito? Sì Sì, però Sì, sì Ciao ragazzi Sì Mi manda qualche mio video Ciao 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 Ciao